Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di maccheroni 5 wurstel 1 cipolla piccola 2 cucchiai di mascarpone fresco 1 decilitro di salsa di pomodoro 30 grammi di burro 40 grammi di parmigiano grattugiato Basilico e sale Preparazione Fate appassire a fuoco basso la cipolla tritata con il burro Unite 3 wurstel tritati grossolanamente Fateli rosolare per qualche minuto mescolando Aggiungete i 2 wurstel rimanenti Tagliate a rondelle spesse Salate Unite la salsa di pomodoro e lasciate cuocere per 20 minuti mescolando spesso Togliete dal fuoco Incorporate il mascarpone 2 cucchiai di basilico tritato e il parmigiano Fate amalgamare il tutto Lessate la pasta e conditela con il sugo caldo Il piatto è pronto Buon appetito!